Musica Potenta, pari ragazzi! Qua Maxi, oggi è un'unica ad oggi, sono da solo e sono qui a presentarvi su un nuovo video che ragazzi è un nuovo Pink Palo e vi posso assicurare che non riesco neanche più a parlare da quanto sono teso, ma perché? Perché oggi sono qui a presentarvi il Pink Palo di Bane, Man of the Match Oh mio Dio ragazzi, che costa all'incirca sui 5 milioni di crediti, ma bensì 11 su PC anche se non c'entra assolutamente nulla, però ragazzi io devo essere sincero in un video non speravo di arrivare a un tot di mi piace, quello della recensione di Bane e io ho visto stamattina che ci siamo arrivati, quindi ho detto, eh no, eh no, eh no io non posso non Pink Palargli questo giocatore, però vi chiedo Allora, no, no, innanzitutto volevo ringraziare i FACOINSTESS, FACOINSTESS e quel sito di crediti che vi consiglio se appunto siete interessati a comprare crediti di FIFA, ma secondariamente io vi chiedo una cosa per favore mettete già un mi piace al video vediamo se arriviamo a 5 milioni 5 milioni a 5 mila mi piace perché? Ve lo chiedo già perché ragazzi questo Pink Palo che determinerà tutti i miei Pink Palali futuri o meglio, non so se ne farò per un bel po' se appunto perderò Bale in questa partita quindi se potete magari scrivetemi un commento che mi carica alla grande e mettete già un mi piace vediamo se riusciamo ad arrivare a non mi ricordo neanche più quanto detto come vedete sono abbastanza teso e poi sono teso per un altro motivo qual è quest'altro motivo che le sto perdendo tutte addirittura mi sono ridotta a cambiare modulo e sarò uno dei miei unici Pink Palo in cui non utilizzerò nella squadra il giocatore che andrò a Pink Palare infatti Bale lo terrò in panchina comunque detto questo vi dovete aver detto tutto sono di un teso della mazzanna e ragazzi come vedete Pink Palo e Bale not Magic Xbox One e andiamo a twittare su Facebook no a parte di scherzi oh qua se non no devo calmarmi c'è quella quadra che non cosa non mi ha ancora ripasso un invito va bene se non volete io non lo imparo e non è un problema eccoci qua ci siamo messi anche online finalmente ecco perché un bel po' di gente non mi riuscite ad invitare stanno arrivando gli inviti oh mio dio sono troppo teso ma dove non ce la faccio comunque andiamo a stare il prossimo invito via al prossimo il prossimo sarà il mio sfidante non guardiamo nemmeno schiacciamo subito e ho aggiunto anche un paio di regole ragazzi non so se avete visto oddio ma chi è quel figo ah sono io 1 mi spiace Flexed Oregon hai perso la tua occasione io fossi lui e lo si che era un macello era come ora e il nostro nuovo sfidante è R V I Gabri ed eccolo qua è già arrivato oh mio dio c'è un team buggato aspettiamo un attimo andiamo a dire la squadra contro che mi sta registrando madonna no 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 sto male oddio 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 4 e 3 Ligan altro mi è buggato c'ho paura mio ping party più epico sta per iniziare o meglio mio ping party più epico inizia adesso oh mio dio non ce la fa non ce la fa no mamma mia ha preso palo sta mi è venuto un infarto mettila fammelo fammelo no c'ho avuto paura oddio calmi madonna oh oh abameyang inviero non va non va inviero inviero no oh inviero se la prendi gundongal fammelo ti prego ti porca oh mangiaguaro oh possiamo andiamo vai calmo oddio mamma mia no victor la presa fammelo ti prego ti prego ti prego al 45esimo 1-0 di victor di margo oh mio dio va bene così va bene così e andiamo e tu se ti sentai il calmo wow arbitro bravi bravi seme così così muriel muriel la metterà muriel la metterà diego perché perché sta boiata io non ho schiacciato niente non ho schiacciato niente no minchiarca oh 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 facciamola finita facciamola finita si l'ha fatta cos'è sì è nostro è nostro è nostro palla lunga per la dare per la dare per la dare 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 muriel fammelo mannaggia ok madonna cioè quando siamo usciti da dio ma perché parlo no era fa oh cristo mamma mia muriel muriel mamma mia calcio l'angolo madonna tienila tienila ti prego 89 signora facciamola finita signora no ha sbagliato 90 90 91 92 no allora boom spazzala oddio li facciamo anche due li facciamo anche due la mette che no zuka fatti sto cazzo no arbitro arbitro non scherzi arbitro la prego arbitro arbitro sì è finita è finita e abbiamo vinto e abbiamo finito ma bene ma bene e andiamo e andiamo così si teniamo bene però che ragazzi oggi è finita e abbiamo giocato alla vita comuni sarà anche mamma mia oh mio dio e abbiamo vinto però e abbiamo vinto però mamma mia quanto sono felice quanto sono felice ora andremo a vedere le statistiche quanto sono felice ragazzi vi potrò portare stra tanti nuovi pink pali finalmente perché ora venderò questo giocatore che a me non piace però andiamo a vedere un attimo le statistiche allora io ho fatto minchie dove ma dove c'è la la dove ha meritato lui ma dove 10 tiri noi 6 tiri noi importa un tiro lui un'importa lui e quindi ragazzi spero che questo video vi sia vissuto non so se vi ho passato un po' di tensione durante la partita anche se devo essere sincero a parte non è successo molto ma io non riuscivo a parlare perché ovviamente avevo tipo il cuore a mille era da un tachigardia credo che sia un tachigardia comunque oh facciamo arrivare questo video a 5000 mi piace e ditemi magari un giocatore da un milioncino un milioncino da poter ripink pallare come prossimo pink pale quindi ragazzi detto questo spero che il video vi sia piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace e di utilizzare il mio codice app anche se non c'entra niente fatemi sapere se anche a voi serve che io utilizzi il vostro e detto questo dunque io vi risaluto e vi dico potente a pala c'entra il vostro video bolla